Incidente nel pomeriggio di domenica 15 gennaio, poco dopo le 16, sulla provinciale 222 a Strambinello. Una Nissan Qashqai, con a bordo 5 persone, tra le quali una bambina, è uscita di strada, terminando la soccorsa, dopo aver impattato con un fianco contro il muretto, in bilico sul fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea Castellamonte, le ambulanze della Croce Blu e della Croce Rossa di Ivrea e il rissoccorso del 118 e i carabinieri. Gli occupanti della vettura, dopo le prime medicazioni, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Non sono in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al valido dei carabinieri.